gestire questa presentazione in modo più informale possibile. Ok, allora la registrazione è partita. Possiamo andare, Andrea. Ok, non so se voi direte una parola, se no... No, io devo tornare di là perché Alessandro... Scusami, Andrea, non posso... Ok, allora partiamo, va bene. Siamo a di là un secondo. Ok, l'apertura delle stanze diverse non è così semplice. Comunque, allora, benvenuti a questa breve presentazione, ma speriamo efficace, del corso di laurea e scienze del servizio sociale. Io sono Andrea Bilotti, sono uno dei docenti del corso di laurea, insegno metodi e cliniche del servizio sociale al secondo anno. Starò io un po' con voi a farvi le informazioni più generali, poi ripeto, abbiamo programmato l'intervento di nostri giovani laureati, qualcuno già nel mondo del lavoro, penso che possiamo aprire un dialogo con loro insieme a loro anche per rispondere ad eventuali vostre domande e ad eventuali vostre curiosità. Il corso di laurea in scienze del servizio sociale di Siena ha una grande responsabilità perché è stato il primo ad essere aperto dentro la cornice accademica. Era il 1956, quando il rettore prese una scuola a fini speciali, perché così erano configurati per l'appunto i spazi di formazione per le assistenti sociali, per gli assistenti sociali, e lo portò dentro lì. Dopo quell'anno, ovviamente, poi anche in tutta Italia, il servizio sociale trovò la sua allocazione accademica. Il corso di laurea ha una responsabilità perché comunque è un corso di laurea storico, almeno per questo Ateneo, ma come vedrete ha uno sguardo anche molto attento e molto aperto al futuro e al mondo che sta cambiando. Il corso è un corso che punta prevalentemente alla formazione di laureati che, una volta superato l'esame di Stato, possano esercitare la professione di assistente sociale, ma non solo. Che cosa significa questo? Spero che le slide riusciate a seguire così come le vedo io presentare nel mio schermo. Gli ultimi fondamenti sono quelli che vedete in questa slide. Prepariamoci... Possibilità di superare l'esame di Stato, perché la professione ordinistica significa che in Italia è tutelata da un ordine professionale. Parimenti a quello che accade ai notai, ai geometri, ai geologi e così via, agli avvocati, eccetera. Qui c'è una struttura che è appunto la struttura dell'ordine professionale regionale e nazionale, col quale noi siamo in forte contatto. Il corso di laurea, infatti, è orientato a preparare studenti che possano brillantemente superare l'esame di Stato e quindi accedere alla professione di assistenza sociale. E poi, eventualmente, lavorare o nel settore pubblico o nel settore privato, o addirittura come libera professione. Questo è uno dei comparti che si sta sviluppando negli ultimi anni. Ma non solo. Lo dicevo all'inizio. i nostri laureati sono laureati che sono preparati nell'ampio ambito delle professioni sociali. Quindi ci sono, poi anche delle testimonianze di questi giorni laureati, persone che magari iniziano con la voglia e l'orizzonte di fare l'assistente sociale, poi nel corso del triennio, riorientano il loro percorso ed entrano in un ambito che è quello delle professionalità del sociale. Abbiamo molti i nostri laureati che lavorano nell'ambito del terzo settore, quindi cooperative sociali, consorsi cooperative, associazionismo, lavorano nella progettazione, nelle ONG, insomma, in strutture anche di questo tipo. Di certo l'orizzonte del nostro corso di laurea è comunque puntato verso lo studio, lo sviluppo di conoscenze, competenze e atteggiamenti per rispondere alle situazioni di vulnerabilità sociale, di disagio, di fragilità in genere, con un'attenzione particolare ad alcuni anni specifici che poi vedremo. Andiamo subito al piano di studi, nel piano di studi è articolato su tre anni, questo è il piano di studi del primo anno, i numeri in grassetto che vedete, vi prego sempre di anche interrompermi con delle domande sulla chat che io ho aperto, non c'è nessun problema. Questo è il primo anno del piano di studi, accanto alla materia trovate un numero in grassetto, ecco quello, è il numero dei crediti formativi universitari. Più è alto il numero e più rilevante, diciamo anche pesante se volete, è il corso in questione. Quindi al primo anno dovrete seguire, qualora decidiate di iscrivervi al nostro corso di laurea, seguirete alcune materie che sono da una parte professionalizzanti e la prima è proprio principi e fondamenti del servizio sociale, che è un insegnamento che è dato a una collega assistente sociale che insegna questa materie da molti anni, ma ci sono anche altri ambiti disciplinari e qui già vedete come questo corso di studi in un certo senso faccia sintesi anche di saperi e discipline molto diverse. Vedete subito, la sociologia ha un peso particolarmente rilevante, ma anche la psicologia, l'antropologia, con un particolare accenno all'antropologia della famiglia e poi il diritto e la storia sociale. Abbiamo inserito, linguistica italiana lo vedete in grassetto, questo esame non da molti anni, proprio perché in continuo dialogo, come vi dicevo prima, con le cosiddette parti sociali, cioè i soggetti interlocutori, quindi le ASL, il privato sociale, l'ordine professionale, ci hanno detto che i nostri laureati dovevano consolidare e avere maggior preparazione nella scrittura. L'assistente sociale in particolare ha la necessità di dover stare in dialogo continuo con enti anche molto strutturati, molto formali, pensate al Tribunale per i minorenni tra tutti o più in generale la magistratura. Molte sono le relazioni da scrivere, molte sono i piani e i progetti da costruire, per cui abbiamo negli ultimi anni anche riorganizzato il piano di studi e questo lo facciamo con credenza annuale, incontriamo le parti sociali, proviamo a capire se i fenomeni, se il mondo sta cambiando, se i fenomeni sociali stanno cambiando e sulla base di questo, con ovviamente alcune paletti ministeriali, cerchiamo di rispondere per l'appunto ai bisogni che cambiano. Anche per questo trovate alcune similitudini e alcune differenze con altri corsi di laurea che sono ugualmente in scienze del servizio sociale attive in altri atenei. Comunque già qui dal primo anno la cosa che mi preme dirvi è che vedete l'eterogeneità delle materie, dei corsi, quindi abbiamo una materia professionalizzante insegnata da un assistente sociale, impartita da un assistente sociale e poi per l'appunto diritto, istituzioni di diritto pubblico, diritto di famiglia, l'area sociologica, l'area antropologica, la psicologia, la storia sociale e la linguistica italiana. Ovviamente a ogni corso corrisponde poi un esame e i dettagli dell'insegnamento li trovate poi online, potete accedere direttamente online, troverete i dettagli della materia. Andiamo avanti al secondo anno. Ecco il secondo anno è stato organizzato con un nucleo di materie cosiddette professionalizzanti date a colleghi assistenti sociali, io sono un assistente sociale, come vi dicevo prima io insegnamento di tecniche e servizio sociale qui al secondo anno. Poi abbiamo analisi delle politiche sociali, organizzazione dei servizi sociali, anch'essa è una materia professionalizzante, metodologia della ricerca sociale, igiene, psicologia delle relazioni e l'idolità di lingua inglese. Mi dicono che le slide non stanno scoprendo, quindi non riuscite forse a vedere questa slide del secondo anno. Mi date conferma? Io Andrea non riesco proprio a vedere le slide. Ok. Io vedo le slide ma il primo anno, è rimasta la piano di studi il primo anno. Ok, ho interrotto la presentazione, ora rilancio la presentazione, vediamo se riparte il secondo anno. Altrimenti provo a lanciarle io che sono riuscito a risolvere il problema dall'altra parte. Scuso. Ma vedete ora? Ma altrimenti possiamo fare senza slide, scusate se intervengo a gamba la presa. Tanto sui piani di studio gli studenti li possono essere interessati, è importante più raccontare il corso di laurea, far capire cosa si studia, quali sono gli sbocchi occupazionali. Il secondo anno è molto importante perché la presenza... Ora non sentiamo più nemmeno Andrea. Un momento di pazienza, non so bene cosa sia successo. Forse posso aggiungere qualcosa io dai. Io sono Fabio Berti, sono il presidente del Comitato per la didattica di questo corso di laurea. Avevo un po' seguito la presentazione, siamo fermati al primo anno. Il secondo anno è un secondo anno un po' più professionalizzante sia per le materie e i corsi da seguire durante le lezioni, sia soprattutto perché già dal secondo anno è previsto un primo tirocinio professionalizzante per 250 ore vale 10 crediti, per cui una cosa piuttosto impegnativa per gli studenti, ma credo sia anche l'aspetto anche più interessante perché con questo primo tirocinio gli studenti hanno la possibilità di trascorrere un paio di mesi fianco a fianco con un assistente sociale già impegnato in un'attività professionale. Per cui fare un tirocinio nel nostro caso significa la mattina invece di andare all'università andare in un comune, in una struttura dell'ASL, all'UEPE o in un altro contesto dove lavora un assistente sociale e affianca durante la sua giornata lavorativa. In genere al secondo anno facciamo dei tirocinio, accompagniamo, facciamo entrare gli studenti nei servizi come vengono chiamati in gergo generalisti, mentre al terzo anno quando troviamo ancora un tirocinio per altre 250 ore, altre 10 crediti, il terzo anno cerchiamo di fare entrare gli studenti nei servizi specialistici, quindi sono due tirocini differenziati, il tirocinio del secondo anno non è uguale a quello del terzo e però a questa esperienza formativa il corso dà una grande importanza, e anche al terzo anno appunto ci sono esami in affiancamento al tirocinio, esami molto più specialistici sia in ambito giuridico che in ambito anche sociologico per esempio. Diciamo che il corso è organizzato lungo una sorta di crescendo, al primo anno ci sono materie più di carattere generale, sociologia generale, che è il corso che tengo io, al terzo anno trovate un corso, il corso tenuto dal professor Balsania di sociologia delle migrazioni, oppure al primo anno trovate il corso di istituzioni di diritto pubblico, quindi vengono studiate le basi del diritto, al terzo anno invece trovate gli esami di diritto penale, di diritto della sicurezza sociale, l'idea è che appunto uno studente che arriva da un liceo, da un istituto tecnico, da uno istituto tecnico commerciale, anche da un istituto professionale, al primo anno familiarizza con i linguaggi nuovi dell'università e poi piano 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 si arriva a un terzo anno quando gli studenti dovrebbero maturare, si dovrebbero confrontare con i temi più specifici della professione che andranno a fare. Ora rilascio la parola a Bilotti, però mi preme anche sottolineare che questo crescendo formativo che c'è all'interno del corso, è anche dettato dal fatto che una volta laureati nel terzo anno, già pochi mesi dopo gli studenti possono presentarsi all'esame di Stato, una volta superato appunto l'esame di Stato gli studenti possono iscriversi all'albo professionale, quindi sono a tutti gli effetti degli assistenti sociali, possono lavorare nei diversi servizi, possono partecipare ai concorsi pubblici riservati appunto agli assistenti sociali e possono trovare impiego anche nel settore del cosiddetto privato sociale, anche del privato for profit, ma più probabilmente il privato sociale. Ecco, io rilascerei la parola a Professor Bilotti se c'è. Sì, sì, ci sono, non so perché, ma sono stato buttato fuori dalla stanza. Un attacco hacker. Nulla, io in realtà non ho molto da aggiungere, nel senso che sfrutterei questo spazio. Se non ci sono domande specifiche sulle cose che abbiamo detto finora, per lasciare la parola ai nostri giorni laureati, i neodottori della nostra triennale, che ci presentano anche un po' attraverso il loro racconto che cosa può passare, che cosa vive uno studente del nostro corso di laurea e una volta che sono laureati, che cosa ha davanti a sé. Quindi se c'è Martina... vedere anche le slide, molto probabilmente Martina non era ancora legata, che ne dico adesso, le ripeto, a voce ovviamente, e mi sento a tutti quanti che non si è aperta la presentazione delle slide, può benissimo andare sulla nostra pagina Facebook. Mi sentite? Vedete? Sì, Martina ti sento. Ok. Mi vedete anche? No. Sì, ora sì. Ok. Allora, salve a tutti, io mi chiamo Martina Torresi e sono un'assistente sociale e attualmente lavoro presso la Società della Salute Sienese e mi occupo dei minori e della povertà estrema. Riassumo brevemente il percorso post laurea. Mi sono laureata a marzo del 2019 in Scienze e il Servizio Sociale, dopodiché ho fatto l'esame di Stato e mi sono iscritta all'ordine dell'assistenti sociali. Ho iniziato subito a cercare lavoro attraverso concorsi pubblici, privato e tramite anche agenzie interinali. Da ottobre 2019 a dicembre 2019 ho lavorato ad Orbetello presso l'azienda ASL, Toscana Sud-Est, occupandomi prevalentemente del re e del re di cittadinanza e subito dopo ho fatto il concorso a Siena e sono riuscita ad iniziare a lavorare qua alla Società della Salute e occupandomi appunto di minori e della povertà estrema. Diciamo che il lavoro dell'assistente sociale è un lavoro con molteplici sfaccettature, perché comunque abbiamo a che fare in primis con persone che necessitano di risposte ai loro bisogni diversi. Con ciascuno di esse si deve instaurare una relazione dei progetti diversi in base alle loro necessità ed è proprio questa diversità che da una parte è una ricchezza, perché ogni essere umano è unico, è irripetibile, quindi è un dono, è una risorsa. Dall'altra però è una diversità che spesso fa nascere dei disagi, dei conflitti ed è per questo che è fondamentale, nonostante io abbia finito il percorso di studi, rimanere sempre in formazione. Io appena uscita, appena laureata mi sono iscritta anche a un corso di aggiornamento professionale che si chiama proprio gestire la diversità culturale nei contesti di identifica, nuovamente riaffiora sempre il concetto di diversità ed è quello che poi ci permette di conoscere la realtà sociale che ci circonda e che si caratterizza da molteplici sfaccettature, da una realtà sociale che cambia nel tempo e quindi soprattutto noi assistenti sociali abbiamo la necessità di conoscere e di stare al passo con questi cambiamenti. È un lavoro che necessita di tantissime responsabilità e non è facile soprattutto all'inizio, però comunque è un lavoro che è promotrice di cambiamento, cioè il cambiamento nella vita della persona. Quindi io credo fortemente nel lavoro che sto facendo e auguro a tutti i futuri studenti di proseguire questi studi e di realizzare anche loro la possibilità di diventare assistenti sociali o altro, però comunque di iniziare a lavorare e di conoscere soprattutto la realtà circostante attraverso il nostro percorso di studi. Grazie Martina. Quello che metti a fuoco mi sembra di poterlo sottolineare in questo senso che c'è anche una spinta ideale che porta chi studia queste materie, chi si vuole occupare di servizio sociale verso l'ideale di giustizia sociale in un certo senso. La professione dell'assistente sociale è una professione che è fortemente connessa con le persone, nelle sue contraddizioni come giustamente dicevi anche te, nelle sue ricchezze ma anche nelle sue fragilità. In questo corso di laurea sicuramente non insegniamo a risolvere i problemi né a salvare il mondo, ma sicuramente cerchiamo di consolidare le nostre conoscenze sull'ascolto, su come si progetta, su come si sta nelle relazioni complesse, su come si guarda anche il mondo che cambia. Ecco io penso che quello che hai detto sia profondamente vero e molto utile. Grazie. Tra l'altro diciamo che Martina si sta collegando dalla sede della società della salute. Questo è il mio ufficio. Ah che bello, bella. Grazie. Grazie Martina. Poi se qualcuno vuole fare qualche domanda a Martina forse può stare ancora con noi qualche minuto. Un'altra storia diversa ce la racconta Enrico? Buonasera a tutti. Allora, il mio percorso è un po' differente rispetto a quello di Martina, con la quale condivido pienamente tutto ciò che da punto di vista valoriale ha sottolineato rispetto alla figura dell'assistente sociale. Detto questo, io ho scelto questo corso di laurea un po' casualmente, senza una vera vocazione come assistente sociale, senza una mission che mi contraddistingueva per le finalità, bensì perché ero interessato molto di più, in maniera più oggettiva, più cruda possibile al programma di studio, che è molto vario, è molto ampio e anche molto equilibrato. Quindi, come è stato già detto, offre sia materie professionalizzanti, molto caratterizzate appunto dal punto di vista del contenuto, sul ruolo, la metodologia e l'ambito di lavoro dell'assistenza sociale, ma offre anche molti corsi e molti argomenti, come ha detto anche professori innocenti, sullo studio dell'uomo nell'ambiente in cui si trova. E quindi tutte le materie afferenti alla sociologia, all'antropologia, al diritto, alla psicologia, su tutte cose che io trovavo molto interessanti e quindi nell'indecisione di saper cosa fare dopo, mi interessava uscire da una triennale con un bagaglio di conoscenze, un background di studi culturali abbastanza ampio da poter fare più cose possibili una volta finito. Penso, che ne so, a lavori all'interno di alcune cooperative, a prescindere dalla figura o dall'inquadramento specifico, come per esempio il classico concorso nel pubblico per lavorare nel comune o in qualche ramo dell'amministrazione pubblica, senza per forza fare concorsi come assistente sociale. Questo la laurea triennale lo offre ed è stato un motivo per cui ho scelto specificatamente questo corso, perché è un giusto equilibrio, fa un'ampiezza di contenuti abbastanza generici, ma ti dà anche la possibilità di non precluderti un possibile ripensamento futuro se qualcuno una volta uscito da lì si volesse cimentare come assistente sociale, quindi esci dalla triennale con una professione, almeno teoricamente, un inquadramento professionale. Detto questo, io mi sono laureato a marzo del 2019 e a luglio ho fatto comunque, nonostante non avessi ancora deciso di o se spendere il mio percorso come assistente sociale, ho deciso di fare l'esame di stato a luglio e quindi sfruttando anche la freschezza degli studi, qualche mese dopo mi sono cimentato e fortunatamente mi sono iscritto all'album B. In questo momento, per esempio, una volta uscito dalla laurea mi sono trovato subito, anche abbastanza casualmente, attraverso il passaparola, il social network, a trovare varie offerte di lavoro e a analizzarle, a pensarci su e alcune anche scartarle. Penso per esempio a cooperative del for profit o meno che cercano persone all'interno delle lauree che afferiscono al sociale e quindi senza un inquadramento preciso come operatore o come educatore, anche se non è esattamente la figura più attinente, però comunque cercano delle persone che abbiano un inquadramento, un background che si basi sullo studio del sociale. Quindi in quel campo lì le offerte non mancano certamente, basta aver voglia di darsi fare e di fare un po' di esperienza. Altrimenti ci sono tutta una serie di cooperative e associazioni del sociale ampio, servizi, cultura, quant'altro, a cui ci si può rivolgere e a cui si può facilmente attingere. Io per esempio lavoro come bibliotecario e questo non è affatto attinente al corso di studio, però lavoro in una cooperativa e quindi il mio corso di studio, nonostante questo, mi è servito per trovare questo lavoro. Oltretutto lavoro anche come assistente sociale seguo un percorso, un progetto della fondazione della Valdelsa sull'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e quindi nonostante io non abbia ancora capito che cosa voglio fare, cioè se fare o meno l'assistente sociale, mi sto sperimentando e comunque una cosa molto positiva che ho riscontrato nel corso di laurea è che una volta uscito di lì, se ti sei preparato a dovere, l'università offre tutti gli strumenti e tutte le risorse per farlo, si è già capaci di buttarsi nel mondo, di buttarsi nella mischia, sperimentarsi e fare, farsi le ossa sul campo, veramente nel senso più stretto del termine. Detto questo, una cosa che invece mi piace anche sottolineare è che il triennale dà agli strumenti anche l'opportunità per rimanere comunque e gravitare nell'ambito accademico. Prima il professor Innocenti ha citato i laboratori che afferiscono al Dispoc con particolare riferimento al Dipartimento, sì al Laboratorio sulle disuguaglianze. Io ho avuto la possibilità con la tesi di laurea di fare una tesi sperimentale, quindi sperimentarmi sulla ricerca e questo corso di laurea mi permette anche di rimanere in quest'ambito qua, quindi di collaborare, collaboratorio, sperando anche nel futuro, di avanzare e costruirmi delle basi sempre più solide anche sulla ricerca, quindi oltre all'assistente sociale, se qualcuno è interessato c'è la possibilità anche di fare ricerca e non è una cosa affatto da poco. Enrico, grazie. Abbiamo scelto, ecco, come avete potuto percepire anche scelte, percorsi anche molto diversi per poter in qualche modo anche rispondere alle sensibilità che poi ognuno di noi ha e sono ovviamente anche molto diversi. Grazie davvero Enrico, peraltro hai toccato alcuni ambiti molto specifici. Martina mi ha scritto un messaggino che ovviamente giustamente deve rientrare al lavoro, quindi in ufficio salutava tutti. Un'altra cosa che possiamo dire, ed è una novità, almeno in questo momento per Siena, è l'apertura di una magistrale che continua la filiera del servizio sociale, per cui un laurea non vi interessa direttamente in modo specifico oggi, però sappiate che fra tre anni, se volete continuare il vostro percorso di studio e specializzazione nella filiera del servizio sociale, da oggi a Siena c'è una magistrale, peraltro l'unica magistrale di servizio sociale pura, in senso stretto, in Toscana, che si chiama Sostenibilità Sociale e Management del Welfare, costruita insieme con il Dipartimento Dispi, aprirà quest'anno e trovate eventualmente le informazioni online. Ovviamente il corso di laurea triennale ha una pagina Facebook, quindi potete trovarci lì, digitando semplicemente corso di laurea in scienza del servizio sociale Siena. Poi magari dopo vi lascio anche le email dei docenti di riferimento del corso di laurea, che comunque sono Fabio Berti, che si è collegato prima, e Andrea Valzania, che è ancora connesso. I nostri indirizzi email sono molto semplici, che è nome.cognome.unissi.it. Tendiamo a rispondere a tutti. Ora, se qualcuno ha delle domande anche banali, siamo qui davvero per voi, per rispondere alle vostre curiosità e alle vostre richieste. Esatto, anche in modalità chat. Per la presentazione della magistrale ha funzionato molto la chat con domande continue che ci sono arrivate. Il salto fra la scuola superiore e l'università è un bel salto e spesso ci si può trovare anche in una situazione... c'è chi ha già chiaro che vuole investire il proprio percorso nel servizio sociale, ma chi, anche Enrico l'ha detto, chi si innamora di un insegnamento specifico, chi esclude, va per esclusione e si ritrova magari da noi. Io penso che ci sia la possibilità, dato anche il numero di studenti e il rapporto con i docenti, di poter anche eventualmente costruire delle relazioni con i docenti che ti possano anche aiutare via via nel percorso di studio. Abbiamo ovviamente anche noi degli studenti tutor che sono dedicati al corso di laurea, che quindi si mettono, diciamo, a disposizione degli studenti per fare anche un po' da tramite fra il corpo docenti e gli studenti. Le opportunità ci sono. Avanti, qualche curiosità, dai. diteci anche se siamo stati più o meno esaustivi, se siamo riusciti anche a raccontare effettivamente un corso di studio, se c'è bisogno di approfondire qualcosa. Il momento di rompere il ghiaccio è sempre difficile. Ma poi in realtà noi non vediamo i volti delle persone connesse, quindi almeno io vedo solo delle iconcine, quindi non sappiamo effettivamente chi c'è dietro. Conoscete la figura professionale dell'assistente sociale? Sapete che fa? Oltre a rubare i bambini, mi dico. No, perché tra le cose, io spesso inizio le mie lezioni e il corso facendo vedere qualche servizio delle Iene, in cui emerge questa figura specializzata nel portare via i figli, ai genitori. Anche come i media rispondono alla costruzione di una figura professionale così complessa come quella dell'assistente sociale è un tema interessante che cerchiamo di affrontare nel corso di studio. Come una figura nata proprio per la tutela, per esempio in questo caso del minore, del bambino e della sua crescita, sia poi raccontata esattamente nel suo contrario, nel suo opposto. Io vi consiglio di approfittare di questo momento perché tra l'altro è anche abbastanza confidenziale, diciamo, in questa chat non siamo tanti, è possibile rispondervi tranquillamente, siamo tre docenti del corso, quindi io approfitterei di qualsiasi domanda sulle materie, sui singoli insegnamenti, per esempio non so se avrei purtroppo dovuto saltare da una stanza a un'altra avendo la supervisione anche dell'altra stanza virtuale, ma non so se per esempio sapete che ci sarà un test di autovalutazione all'inizio che non è assolutamente, come si può dire, non è assolutamente costrittivo, non impedisce l'accesso al corso, ma che comunque vi fa testare le vostre competenze se sono più o meno affini, diciamo, a quelle del corso che state per intraprendere, nel caso appunto la vostra decisione sia per questo corso. Questo test di autovalutazione verrà fatto appunto a settembre, avete l'opportunità di partecipare, di cercare di capire a che punto sono le competenze propedeutiche che servono ad avere un giusto approccio alle materie del primo anno, ma per esempio immagino che non sappiate alcune discipline che cosa siano, non so da dove appunto provenite, da quale scuole secondarie, quindi ecco tutte le domande sono lecite, non ci sono domande intelligenti. No, se no, Andrea mi veniva in mente di fare un po' i cattivi, facciamo noi una domanda loro, nel senso mi piacerebbe sapere da dove siete, se siete di Siena, della regione, fuori regione, noi accogliamo molti studenti da altre regioni, mi piacerebbe sapere più o meno quali sono le vostre provenienze e magari anche la vostra scuola di afferenza. Io ho una domanda. Ecco, 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 è ancora giusto. Grazie. Dopo la laura triennale è obbligatorio fare appunto anche quella magistrale per poi effettuare effettuare appunto il lavoro, quindi c'è l'iscrizione all'amore qui. Da dove ci, da dove sei connessa? Follonica. Follonica? Sì. Ok. Allora, la domanda è molto specifica e rispondiamo facilmente. Dopo la triennale il corso di laurea prepara ad affrontare l'esame di Stato. In questo momento l'albo, cioè l'albo è diviso in due sezioni, una sezione per i laureati, per i dottori del laurea triennale e una sezione che si chiama specialista, assistente sociale e specialista per i laureati magistrali. Alla fine della triennale puoi, superato l'esame di Stato della sezione B, esercitare come assistente sociale, quindi fare i concorsi pubblici e quindi lavorare come assistente sociale scritto all'ordine nel privato sociale, come diceva prima anche Enrico, o come libero professionista. Quindi alla conclusione del triennio il tuo percorso professionale da un certo punto di vista potrebbe, formativo, potrebbe anche interrompersi, non so se mi spiego. Poi Martina prima ci ha detto un po' il contrario, mi sono accorta nel mondo del lavoro, lei dopo la triennale ha superato l'esame di Stato, ha superato il concorso per entrare in un ente pubblico e ci dice mi sono accorta che non basta, la formazione non basta mai e quindi si è iscritta ad un corso specialistico, ad un master specifico. Però ecco, ovviamente non è obbligatorio. Spero di averti risposto. Sì sì, grazie mille. Infatti, diciamo, a tal proposito è molto importante il tereoscino professionalizzante perché il tereoscino professionalizzante in un certo senso permette una socializzazione con il mondo del lavoro, già mentre si sta studiando, perché si verifica sul campo quello che si andrà a fare, mentre si sta studiando, quindi è un aspetto molto molto importante su cui noi puntiamo molto. Andrea, ci chiedono maggiori dettagli sul test d'accesso. Di che tipo? Dettagli di che tipo? Non leggo il... Alessi ha fatto una domanda in chat. Non riesco però a vederla. Dice, sono di Massamaritti ma sto frequentando l'istituto sociosanitario di Follonica, vorrei avere informazioni più dettagliate sul test d'ingresso. Il test d'ingresso è un test di autovalutazione, quindi del tutto, intanto è facoltativo, cioè non è obbligatorio. Potete usufruire di questo test d'ingresso, come vi dicevo, per fare una sorta di test autovalutativo sulle vostre conoscenze in ingresso al corso di laurea. Questo vale non soltanto per il corso di laurea in scienze e servizio sociale, ma per tutti i corsi di laurea di quest'Ateneo, dell'Ateneo Senese. Quindi non è obbligatorio, è del tutto facoltativo, però può servire per capire se ci sono delle competenze, diciamo, che voi avete ricevuto dalle scuole secondarie superiori che, diciamo, sono un po' da colmare, ecco, dove siete un pochino più deboli, insomma, rispetto ad alcuni corsi che troverete all'università. È semplicemente questo. Quindi è un test che viene svolto, diciamo, quando la situazione è normale in un'aula della nostra, del nostro dipartimento. È un test a domande chiuse, in cui vi sono fatte delle domande su varie materie, che danno un punteggio, appunto, di valutazione del vostro livello di conoscenza. In modalità, allo stato attuale, diciamo, se le cose perdurano, forse a settembre avremo la possibilità di fare questo test da remoto. Quindi, come stiamo facendo adesso la giornata di formazione attraverso il sistema Google Meet. Non so se ho risposto in maniera esauriente. Bene. Sì. Gli altri connessi, tutti toscani? Da quali scuole provenite? Ci sono delle materie che vi sembrano molto strane o comunque sulle quali non avete… che, per esempio, noi abbiamo molti laureati del socio-psicopedagogico, di solito loro, diciamo, per esempio le materie del primo anno hanno più familiarità, perché appunto le hanno fatte nel loro percorso di scuola secondaria superiore. Non tutti, però, provengono da questo tipo di indirizzo, anzi abbiamo un'articolazione piuttosto ampia di scuole e di provenienza. Quindi le difficoltà a volte, ma anche le scoperte, perché ci sono delle persone che scoprono delle discipline, proprio iniziando l'università, si appassionano a discipline che magari non conoscevano e studiano con maggior interesse magari di coloro che le avevano già fatte a liceo e anche con maggiore profitto a volte. Succede anche questo, insomma. Non dovete preoccuparvi ecco delle conoscenze in entrata. L'importante è sapere, come diceva prima Andrea Bilotti, che c'è un salto di qualità nello studio dalle secondarie superiori all'università. Questo sì. C'è un salto di qualità sia nel modo in cui si affronta il corso e quindi la possibile frequenza del corso. C'è un salto di qualità nel modo in cui si studia poi a casa la materia e poi nell'esame. L'impatto vero è un po' questo, insomma, che è un po' di grande differenza. Allora, i test sono fatti a Siena, però per chi partecipa, perché appunto se a settembre facciamo la modalità online, la territorialità non vale più. In ogni caso, se lei vuole partecipare online, io credo che una modalità mista sia comunque garantita per coloro che provengono da sedi più lontane, quindi per facilitare il test. Che non ci siano problemi, insomma, a fare il test anche da modalità Google Meet. da quali scuole provenite? Ma c'è ancora qualcuno che non ci ha detto da dove arriva. Provate a rompere il ghiaccio, voi siete silenti. Quantomeno palesatevi, potrebbero essere delle icone... Qualcuno ha lasciato la chat. Non vogliamo impaurirvi, eh, non sono... No, più che altro io ho pensato bene all'open daily online, così gli studenti del sud parteciperanno in massa. Eh... ma eh... ho paura che... non è proprio così. Vabbè, se no ci accingiamo a chiudere, perché insomma non è il momento. Se non ci sono domande, non... Eh, buonasera, io volevo fare una domanda per quanto riguarda il piano di studi del primo anno, sarà possibile? Sì, certo. Eh, non ho ben capito in cosa consiste lo studio di istituzioni di diritto pubblico. Se me lo potessi spiegare, per favore. Si parla, Andrea? No, istituzioni di diritto pubblico è quello che in altri corsi di laurea viene chiamato diritto costituzionale, nel senso si studiano le fonti del diritto, è un avvicinamento al mondo del diritto, insomma, con particolare attenzione alla Costituzione. Per cui si parte da lì, eh... per poi avere gli strumenti adeguati agli altri corsi giuridici. Ecco, per cui sembra un nome importante istituzioni di diritto pubblico, eh... in realtà siamo a cavallo tra il diritto costituzionale, quindi ciò che c'è scritto dentro la Costituzione. e altri contenuti che hanno a che fare con un altro termine un po' complicato che si direbbe esegesi del diritto, vale a dire una sorta di gerarchia delle fonti del diritto. Chi comanda di più, insomma, comanda di più, eh... una legge, comanda di più un decreto legislativo, comanda di più, eh... un decreto regionale, l'abbiamo visto in questi giorni da emergenza coronavirus, no? Eh... quando diceva una cosa un presidente di regione e quando diceva una cosa il presidente del Consiglio. Chi conta di più? Eh... si vede... queste cose qui si vedono anche studiante istituzioni di diritto pubblico, che ci chiarisce questo corso, ci chiarisce bene chi ha più potere, insomma, chi ha più potere decisionale, almeno da un punto di vista delle fonti e del diritto. Perfetto, grazie mille. Poi ovviamente tutti, intanto possiamo, credo che possiamo andare verso conclusioni, tutti potete cercare me, Vazzania, Bilotti, siamo sempre a disposizione in questo periodo, ancora di fermo a casa, potete contattarci e fare... e poi possiamo organizzare anche una videochiamata, eh... quindi far finta di fare ricevimento studenti, ecco, come faremo all'università, invece di venire all'università, vi mandiamo un link per partecipare a Google Meet, per partecipare a una riunione come questa, docente e studente, forse anche meno... anche più informale, via di quanto può essere una presentazione pubblica come questa, e possiamo in qualche modo rispondere a tutti, a tutti, insomma, a quasi tutti i vostri dubbi, insomma, poi proprio a tutti i dubbi non siamo in grado di rispondere, abbiamo tanti anche noi di dubbi, risolvere tutti i vostri ci è complicato, però insomma, almeno a qualche dubbio per quanto riguarda l'iscrizione all'università, per quanto riguarda i contenuti formativi, per quanto riguarda qualche sbocco occupazionale, almeno da un punto di vista teorico, ecco, tutte queste cose qui siamo in grado di farle, per cui non fatevi scrupoli, a domanda noi rispondiamo. Bene, io se non c'è altro, se non ci sono altre domande, altre questioni... Di là, diciamo solo Fabio che stiamo costruendo anche una guida, diciamo, più tradizionale con gli insegnamenti e l'articolazione del piano di studio e piano didattico che caricheremo sul portale dei dipartimenti, quindi ecco, eventualmente ulteriori informazioni ne troverete grazie. Bene, perfetto. Grazie, arrivederci. Ciao a tutti, arrivederci. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. Fabio, spengite la registrazione. Sì, aspetta. Te la dovrebbe salvare sul Drive. Grazie. Grazie.